fake news tra le parole più utilizzate negli ultimi anni ci sono sicuramente le fake news ovvero quelle mezze verità o quelle complete bugie che di tanto in tanto saltano fuori su giornali internet o su carta stampata le fake news non sono per niente un fenomeno recente pensate che la donazione di costantino che era un editto che regolava i rapporti tra roma e la chiesa venne ufficialmente riconosciuto come falso nel 1440 ma se le fake news non sono per niente un fenomeno recente allora perché sono salite alla ribalta in maniera così dirompente negli ultimi anni probabilmente è dovuto al fatto che l'avvento degli smartphone e di internet ha reso molto più veloce e fruibile la disponibilità di informazioni e quindi quelle che sono notizie false o non completamente vere possono essere smascherate in tempi molto più brevi purtroppo le fake news esistono anche nel mondo della medicina dell'attività fisica dell'alimentazione e del benessere in generale e questo è un aspetto molto pericoloso perché nel momento in cui iniziano a circolare notizie false che riguardano la salute delle persone ecco queste possono diventare veramente un'arma molto pericolosa faccio una premessa questo video lo sto girando nell'aprile del 2020 siamo in piena pandemia coronavirus e anche in questo periodo stanno ovviamente circolando un sacco di notizie false dal fatto che c'entri col 5g dal fatto che sia scappato da qualche laboratorio cinese e così via purtroppo sono tutte notizie false che però hanno contribuito ad aumentare l'angoscia e la paura e capita molto spesso in questi giorni di imbattersi in persone che chiedono come è possibile arginare le fake news o come è possibile difendersi da esse il mondo scientifico ha creato una soluzione per difendersi dalle fake news e per arginare questo fenomeno sempre crescente e ha elaborato un proprio diagramma che prende il nome di piramide dell'evidenza scientifica la piramide dell'evidenza scientifica è un diagramma a forma di piramide appunto che vede alla base gli studi o le opinioni che hanno meno attendibilità e quindi sono da considerare meno affidabili e meno attendibili dal punto di vista scientifico via via che si sale più su lungo la piramide avremo studi sempre più affidabili sempre più attendibili che quindi sono da prendere come esempio per arginare appunto questo fenomeno cercando su internet troverete diversi tipi di piramide dell'evidenza scientifica quella che vi espongo in questo video è un riassunto che vuole rendere fruibile e comprensibile tutta una serie di terminologie scientifiche che potrebbero ad una prima occhiata sembrare molto molto difficile alla base di questa piramida troviamo le opinioni degli esperti potrebbe sembrare una cosa curiosa ma le opinioni degli esperti per quanto siano preparati in un determinato argomento rimangono delle opinioni e quindi sono soggette ai cosiddetti bias ovvero delle convenzioni personali sociali economiche religiose che possono alterare e distorcere la percezione della realtà anche a degli esperti vogliamo fare un esempio in questi giorni addirittura luque montagné premio nobel per la medicina nel 2008 si è lasciato sfuggire tutta una serie di affermazioni molto discutibili che sono state completamente smentite dalla comunità scientifica quindi anche un premio nobel per quanto autorevole possa essere il suo punto di vista è soggetto ai cosiddetti bias e quindi le opinioni degli esperti per questo motivo ricoprono il gradino più basso della piramide al secondo gradino della piramide troviamo il singolo caso o la serie di casi che sono una serie di conclusioni che sono state tratte in seguito allo studio su un ristretto gruppo di persone molto spesso sentiamo esordire telegiornale dicendo secondo uno studio dell'università questi servizi del tg fanno riferimento a questi studi che quindi ricoprendo soltanto il secondo gradino di questa piramide hanno ancora un'attendibilità molto bassa e infatti succede spesso che questi telegiornali lanciano notizie abbastanza struse facendosi forti del fatto che sono state confermate da uno studio scientifico come abbiamo visto però lo studio scientifico o la serie di studi scientifici hanno un'attendibilità abbastanza bassa motivo per cui sono relegati al secondo gradino al terzo gradino della piramide ci sono gli studi caso controllo sono degli studi osservazionali ovvero si analizzano dei dati comparando persone che hanno una determinata patologia con persone che non hanno quella patologia ad esempio si correlano i fumatori con i non fumatori e si cerca di dedurre dallo stile di vita da tutta una serie di informazioni se c'è una motivazione plausibile per la quale chi ha fumato abbia sviluppato una certo tipo di patologia anche qui però siamo ancora ben distanti da una forte attendibilità perché la correlazione non implica causalità ovvero se due cose sono correlate non è obbligatoriamente vero che una cosa sia dipesa da quell'altra altrimenti si corre il rischio di fare la fine del tacchino induttivista storiella narrata da bertrand russell in cui in un prossimo video dediceremo un approfondimento salendo ancora più su troviamo gli studi di coorte in cui si studiano dei gruppi di persone tendenzialmente molto molto ampi per dei periodi di tempo abbastanza lunghi e definiti l'obiettivo di questi studi è cercare di capire se c'è una correlazione tra un fattore di rischio e una patologia un esempio di studio di coorte è stato il seven countries study ovvero lo studio delle sette nazioni voluto da Ansel Case che è stato lo studio che ha gettato le basi per la definizione della dieta mediterranea questo studio è stato condotto su oltre 12.000 persone per circa 25 anni ed è riuscito a concludere che c'è una correlazione tra alcune patologie cardiovascolari e la dieta anche questi studi pur ricoprendo una posizione abbastanza alta in questa piramide non sono immuni da errori tant'è vero che lo stesso Ansel Case creatore della dieta mediterranea quando fu interrogato sul fatto se l'aver vissuto fino a 100 anni fosse stato dovuto al fatto che avesse condotto un buon stile alimentare durante tutta la sua vita dichiarò è probabile ma non è provato al penultimo gradino della piramide troviamo gli studi clinici randomizzati si definiscono randomizzati proprio perché le persone vengono assegnati ad un gruppo o ad un altro in maniera casuale dall'inglese random e il fatto di assegnare appunto in maniera random i soggetti da studiare ad un gruppo o a quell'altro riduce al minimo la distorsione legata ai bias alle convinzioni personali o agli autoconvincimenti questi sono gli studi che vengono condotti in cieco in doppio cieco o addirittura in triplo cieco in cui nessuno tra partecipanti scienziati e controllore sanno chi ha ricevuto un determinato trattamento e chi no in questo modo l'effetto placebo è ridotto al minimo per chi non lo sapesse l'effetto placebo è quell'aspettativa ottimistica sul fatto che quella sostanza possa indurre quel beneficio al vertice della piramide troviamo le review e le meta analisi le review non sono dei veri e propri metodi per condurre degli studi ma sono semplicemente delle analisi statistiche che filtrano gli studi meno attendibili considerano solo quelli ritenuti più attendibili e fanno delle analisi statistiche per cercare di capire se c'è una linea di tendenza ovvero se la maggior parte degli studi dicono una cosa piuttosto che un'altra nelle meta analisi si fa un ulteriore passo in avanti vengono ulteriormente filtrati gli studi da considerare e li si raggruppa come se fossero un unico studio qui siamo al vertice più alto di questa piramide dell'evidenza scientifica e infatti dalle review e dalle meta analisi prenderanno poi vita le linee guida di alcuni ministeri o di alcuni organizzazioni professionali quindi quando sentiamo che uno studio scientifico ha detto che dobbiamo prendere con le pinze quello che è detto quello studio scientifico perché come abbiamo visto li ricoprono una posizione abbastanza bassa in questa piramide se invece sentiamo parlare di review o di meta analisi allora sappiamo che l'attendibilità di quelle informazioni è molto molto maggiore ho ritenuto molto importante fare questo video perché conoscendo a fondo questa piramide dell'evidenza scientifica è possibile arginare il fenomeno delle fake news e riuscire a discriminare le notizie vere da quelle false anche perché lo studio scientifico o il premio nobel addirittura può talvolta incorrere in qualche grossolano errore di valutazione per fortuna il mondo scientifico è in continua evoluzione e questo comporta un continuo sforzo per cercare di approfondire e di rimanere dietro alle ultimissime ricerche scientifiche e quindi alle ultimissime linee di tendenza da seguire verso questo o quell'altro argomento per concludere questo video voglio darvi un consiglio verificate sempre le fonti qualunque sia l'organo di informazione un canale youtube un giornale un telegiornale una notizia un blog verificate sempre le fonti le persone che appongono una bibliografia scientifica alle notizie che dicono sono sicuramente da considerare più serie ed affidabili rispetto a chi non cita nulla nella descrizione a questo video vi lascio le fonti da cui ho preso queste notizie e alcuni articoli da leggere per riuscire ad approfondire meglio queste dinamiche relative alla piramide dell'evidenza scientifica se mi hai seguito fino a qui ti ringrazio ti invito ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella in modo tale che sarai avvisato quando pubblicherò un nuovo video a presto